allora ragazze ragazzi rieccoci qua su alice siamo finiti in un mondo molto molto cupo si può dire sembra che torturino la gente qua abbiamo trovato il topo e la lepre quelli che o forse era un cuniglio no il topo no il topo topo e lepre penso sia quelli che bevano il tè con alice mezzi trasformati in robot vabbè li stanno torturando per bene oddio abbiamo scoperto che questi robottini sono in realtà esseri viventi trasformati sostanzialmente oh no ovvero ho finito aspetta qua la via ecco è questa qua se il cappellaio è fuori di testa vabbè ok là ci sono dei ragni qua un'aquila cos'è? no 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 per aver guardato gli esperimenti. Con lezioni, lezioni, lezioni e lezioni di meccanico, si chiede un'impossibile precisione, come un attenzionista che è obsesato con fraccia di secondi infinitesimali, o un matematico che cercano di sguardo il cerchio. Si metterà tutti i nostri aiutori sui automattoni, o rimanerà loro in attenzione. E' davvero bello. Sei sei o'clock? Sei sei o'clock. Sei sei o'clock. Hmm... magari sei o'clock prima oggi. Abbiamo... un anetto che vabbè. Lo devo fare? Ehm... ah! Presa. Ok. Le sei verranno prima oggi. Cosa significa? Ci sono dei dadi, va bene. Comunque non si rompe. Qua ci sono attivati i ragni. Dai, vai un po' di... Ragno cotto. Ancora vivo? Si. Ecco. Ah, si è aperto un passaggio. Prima era chiuso lì. Aspetta che salvo. Aspetta. Adesso come mi avvicino? Anzi, come supero? Eccoli. Oh. Oddio. Madonna. Aiuto. Madonna. Veleno. Bordello. Bordello. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora. Qua devo fare così. Faccio. Hop. Hop. Ok. E' andato giù. E' andato giù. E' andato giù. Porca vacca. Sono... Sono incastrati. Meno male. Vai. Ok, ok, ok. Ah, c'è la modalità demoni lì. Vabbè, lasciala lì, va. Cerca la fuga. Cerca la fuga. Cerca di salvarsi la vita. Ok. Madonna, ho mancato, porca. E' morto? Spero di sì. Ok. Sì, è morto. Ok. Aspetta. Vai. Anche se è piccolo. Guardalo. Come picchia, anche se è piccolo. Eh, aspetta. Mi sono fatto male da solo. Orta. Ecco. Via. Lancio il coltello, così. Ah no, è proprio morto. Vabbè. Ok. Ehm... Fa vedere... Aha. Ah, ok. Ok. Beh, lì non ci arrivo. Forse ci arrivo qua. Però vado nel portal, dai. Oddio. Dove sono? Ragni. Sono sulla tavola... Ah, ci sono incastrate lì. Aspetta. Ah, esplodendo uno. È stato investito. Guarda se... Ok. Ok. Ah, io ho pazienza, eh. Ok. Oddio. Mi è saltato addosso. Che schifo. Vai a fuoco, ragazzi. Si è sbloccato, praticamente. No, che c'è? Ah, è stato quasi investito... Aspetta. E non va. Non va su lì. Ok. Adesso, ok. Se ne... Sbloccano altri. Ok. Ok. Venite, venite qua. Fatevi... Cuocere. Morti? Si. Perfetto. Lo devo fare qua. Sul tavolo... Qui. A parte che non... Aspetta, salvo. Quindi da caricare, anziché salvare... Devo colpire qualche... Ah, forse devo colpire l'orologio? No. Oh, lì c'è. No, ma fa... Lo sfondo, eh. Beh. Ah, ecco perché non ci arrivavo. Devo rimbalzare. Oh, oh. Oddio, ma che è? Fa pure male, sta roba. No. No, fammi uscire. Ah, sono arrivato. Boh. Ma... E quindi? Ah, ecco. Oddio, il ca... Cappellaio. Aspetta. 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 Ah, no, no. Eh... Dov'è andato? Che ha? Il lanciafiamme? Aspetta, l'abbiamo appena salvato. Devo prend... Devo... Praticamente devo pigiare... Ok. E allora sbloccati. Eh, però poi devo saltare subito. Vabbè. Mi mangia un po' di vita così. Che qua c'è anche solo la magia, quindi... Eh sì. Cazzo, allora, sto giro... No, non salvo. Ho poca vita. Cioè, che cavolo. Aspetta. Io sto qua. Aspetta. Guardalo, guardalo. Bra, bra. Brucia, brucia. D'inferno. Guarda. 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 Cerca di farci qualcosa, ma... Ma... Ah, ma è un'automa, eh. Boh. Pfff. Cioè, gli è saltata la testa, post. Direi. Guarda. 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 Solo uno di portale, no? Sì, ok Ah, ci ha ricaricato tutto Aspetta, appena salvato lui Ma io salvo anch'io Aspetta Un attimo Ok Andiamo Non ci sono arrivato, porca Ah no, sì, sì, l'ho preso, l'ho preso Perché che si sta lamentando? Oddio Sono caduto Sono caduto Aspetta Ah vabbè, vado qua, dai Attenzione Attenzione ai missilozzi Attenzione Sono grossi questi, eh Donna Ah, no Eh, stavo guardando Non stavo guardando Ok Aspetta Vai che va a fuoco Vai che va a fuoco Eh, a raffica Ma do tutto ma tolto Sto qua Ma questi sono più grossi, infatti Ahia Eh, per forza Non Non mi devono prendere bene Allora, se io sto qua Invece Andiamo Andiamo Io non entro nell'arena Diciamo Sto qui Forse Forse Ok, non si Diciamo Non si Toglie La piattaforma Miro Più in alto Possibile Ok Continua Finché Posso Magari Andiamo anche un po' Coltello Che c'era con noi Però Ok Eh, ma questa è un po' dura Schivarli Eh Eh, no Allora, devo Aspetta Provo ad attirarne uno Vediamo A parte che loro si muovono Appena lancio il coltello Eh Ok È un po' un rischio Però Lo sono finito Ando fuori dalla mappa Scusa Vedere Ah, non c'è niente Ok Eh, no Però se lo attiro qua È un po' dura Non ho copertura Questi avranno tanta vita Scommetto Eh, infatti Se riuscivo a Dargli fuoco Da qui Però Deve andarmi un po' Di fortuna E non va di fortuna Non mi sembra Andar di fortuna Con quello Con quello un po' sì Adesso mi ha Mi ha puntato Ma madonna Sta buono Perché ti si bloccano le ruote Aia Ah, però Ho un'idea Adesso Se muoio Probabile Possiamo eliminarne uno Facilmente Oh, mi ha arrivato Mi ha arrivato Allora, aspetta Aspetta Ho preso Sì, un pezzo L'altro pezzo Dell'arma Allora Se io uno Lo attiro qua Poi vado avanti E cade giù Aspetta Aspetta E se li attirassi Tutte e due Sarebbe ancora meglio Vieni, vieni Vieni, vieni Ok No 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 Di poco Aspetta Va, tiro a te E l'altro Lo manco sempre No, no Ma vieni, vieni Vicino Vieni vicino Vieni più vicino Più vicino Più vicino Più vicino Più vicino Si è bloccato Non so Si, comunque Cioè davvero Se uno dovesse Affrontarli In maniera Tradizionale Qua Non ce la si fa Assolutamente No Dai Vieni Vieni vicino Dai Bravissimo Un po' di più Un po' di più Ok Bravo Molto bene Addio Ok Adesso però Beccarne uno Ce l'ho vicino Attaccato al sedere Ce l'ho Aspetta Proprio faccio Attenzione Eh, non l'ho preso Non mi ha preso Ah, non ho magia Porca vacca Ahia Sì, ma qui ha voglia Col coltello Eh Dove è arrivato L'altro missile Cioè posso fare L'unica è fare così Prima o poi morirà Spero prima Ok Ok Non lanciarmi i missili Per favore La ringrazio Ecco Cioè ma va quanto girano Sti missili Cioè Sto facendo male Meno male è uno solo L'altro l'abbiamo fatto cadere No Cioè Forse È così alto Che non ci Con questo attacco Non ci prende Perché noi siamo bassi Oh Vuoi morire Dai Non ho tutto il giorno Su Io continuo così Sperando Non mi prenda mai Dai Su Cadi Madonna Ok Oh Finalmente Insega Meno male Uno l'abbiamo liquidato Salvo subito Aspetta L'abbiamo liquidato Facendolo cadere Ok E il cappellaio Non ha più la testa Ah no Oddio Oddio Devi stare Un po' Fermo Orca vacca Sì Questo Meno male ho salvato Meno male ho salvato Aspetta Adesso Risalvo Dopo che lui parla È qua dove Spera Spera Oh Ok Salvo ancora Così ci risparmiamo Il discorso Stregatto Cappellaio L'ho preso Eh lui Ha i lanciamissili Nelle braccia Cioè Che caro è Ok Attenzione Eh devo evitarlo Anch'io Vai che passa in mezzo Eh vabbè Mi ha preso Cioè Mi ha piccato Il fuoco Addosso Beh prendo Ok Dov'è andato? Oh Ancora qui Sto cappellaio Ha rotto le balle Per dire Olè Sposato in mezzo Eh no Contro di loro Allora aspetta Facciamo così Allora Contro il cappellaio Proviamo a usare Il coltello Ok No In fronte Usiamo il coltello Ah Bravo Cammina così Ok 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 Colpiamo Colpiamo Duro Ok Ok Lui sparisce Arrivano Io salvo Arrivano I robottini I robottini Aia Lanciafiamme Lanciafiamme Mi hanno tolto un casino Porca di quella vacca Eh Eh Vai Ho salvato I robottini Col coltello Non li uccidiamo Più Ok Aia Sti missili Madonna Attenzione Che è successo? Ah sono morti Ok Dammi qua Dammi qua Aspetta che adesso Risalvo Boh Salvo subito Ok Salviamo A ogni fase Così Ok Quindi C'è una teiera Lì in alto Eccolo Ah Lancia Teiere Bomba Vabbè Qua sei orrendo Per dire Sì sì Facciamo così Contro di lui Che Ok Con l'alto Con lanciafiamme Non riusciamo a prenderlo bene Meno col coltello Sì Sparito Aspetta Risalvo Ok Esci Attenzione Dai 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 che gli prendo bene Madonna Attenzione al fuoco Ah son morti Son morti No Ho lanciato il coso Devo prendere la vita Assolutamente Ok Salvo Molto bene Coltello Mi sa che adesso Torna Oddio Fida Farso così Ti permetti Spero sia l'ultima volta Carissimo Eh Non mi tirare Le bastonate Ecco Sì Ancora Ma basta No Ho sbagliato Ho messo le bombe Eh Eh aspetta Non salvo Perché tanto Aspetta Eh Ero a un passo Porca vacca Eh Avevo poca vita Non conveniva Salvare Ma non è che Devo dargli proprio La botta Forte A questo Domanda Eh Aspetta Eh Cioè Vediamo Così Che se no Cioè Se no Col coltello Cioè Col coltello Lo prendiamo bene Ecco Io sono andato Troppo in mezzo Aspetta Ci sono Attimo Ma l'ho lanciato Dove Scusate Ah Ma lui Ha rintocco Capito Dell'orologio Va via Porca vacca Eh no Allora Allora no Devo usare Sì Il coltello Su di lui Per forza Sì Però dico Quante volte Deve andare Venire Per batterlo No Ok Aia E basta No Ho mancato Donna Sono velenosi Sti Così Vedo Penso di ste Eh no Non ho capito Se Va fatto Qualcosa C'è Va rotto Un Qualcosa Non lo so Cioè Perché è possibile Che lui Abbia tutta Sta vita Cioè È possibile Però Ok 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 Via Ha preso tantissimo Porca vacca Ok Eh lui Va via Io salvo Adesso Così Ricomincio Da qui Meno male Ho salvato Aspetta Cavolo Però C'è Di sti Bombardamenti Ok Eh sì L'onda D'urto Ma Ma Che sfortuna Però Eh C'è C'è Cos'è che mi ha preso Eh E niente Mi ha preso Non ho ucciso Porca vacca No Basta Usare i missili Grazie Eh Non è che sia così Corretto Porca vacca E niente Ma io C'ho Seriamente Il dubbio Che devo Far qualcosa A me sembra Strano E Il fatto è che Ora non riesco Mi sono un po' Bloccato Mi sa Ma qui Non c'è niente Eh Vabbè Ciao Ok Aspetta Evitato Vapore Cavolo Adesso C'è il rintocco Questi vanno via O muoiono Ok Vabbè Ho ricaricato tutto Come se nulla fosse Successo C'è Cioè Io dico A me sembra Strano Oh Là c'è qualcosa Lui ritorna Noi lo becchiamo Noi lo becchiamo Là c'è Là c'è La c'è della vita Là in alto Cioè Va rotta la teiera Che ne so Guarda Ma ci passa attraverso Mi sembra C'è Le due palle Ehi Ci passa attraverso Il coltello Quindi non capisco Aspetta Qua C'è la goccia La goccia Li neutralizza Ma c'è qualcosa Che non va Cos'è questo Ah Boh Una catena Non lo so Fa parte Della decorazione Saprei Aspetta Eh aspetta Cercano di capire Qua No Mi sa che fa parte Dell'ambiente Almeno È sul 30 Vabbè Anche se mi uccide Non importa Cercano di capire Cercano di capire Non so Mi sembra strano Stiamo andando avanti Da troppo tempo Scusa eh Vabbè Che là Vedo qualcosa Ma questa è No Cavolo No Non si fa niente Questo non si capisce Qua non ci si può Arrampicare Quindi io dico Boh Proviamo Ho i dadi Diabolici Che non funzionano Che non funziona O forse Devo stare qua sotto Quando la goccia Dove cade Non so Aia Oddio Oddio Dimmi che ce l'abbiamo Però non l'ho Non l'ho capita Francamente Sta boss fight E' morto E' morto Era ora eh Tre anni Ci abbiamo messo Aspetta un attimo C'è un po' Ve l'ho tagliata Ma Boh Cioè Alla fine Ho continuato a colpirlo Con lancia fiamme E ho detto Prima o poi morirà E che cavolo C'è Vabbè Non so E' una di Ecco Meno male ho salvato E' una di quelle cose Dici ma è possibile Che non Non so In fase In fase di sviluppo Non l'hanno provata Cioè Non so Mi sembra fin troppo Allungata Allungata Come boss fight Francamente Io però Vorrei andare su Mi fate andare su Eh cavolo Cos'è questo L'oroggio da taschino L'oroggio da taschino Ah ferma Ferma il tempo Noi ci muoviamo Quanto dura? Aspetta E' tutto Fermo Va bene Ma Ah ok L'oroggio era 30 secondi Forse E' il Cos'è Che arma è? Ah Lo zero Sullo zero L'ha messo Vabbè Con gratitudine I offer you my services Promise only what you're prepared to deliver I am destined to battle the Red Queen The outcome is uncertain You won't fight alone Permit me to serve as your commander I'll muster the forces whose allegiance your courage and skill have already won How shall we prepare for battle? An assault on the Queen Depends on breaching the gates to her kingdom Only the Jabberwock's eye staff can pry them open If you open the gates I'll lead the troops to victory Let us write the wrongs of this world Eh ci manca un pezzo Però Vabbè Burning Curiosity Curiosity Bruciante Recruit whatever allies you can Alice We'll need them all I'll return with reinforcements Take heart Vabbè Grazie Una mano Allora Però abbiamo Aspetta Ok È un po' dura eh Quindi posso approfittarne per fare così E dargli fuoco a tutti Ok È un po' dura dai No ma Ecco E non consuma neanche magia praticamente Ottimo direi Questa cavalletta Grillo Oddio cos'è Madonna siamo Siamo velocissimi ma Oddio Ho finito l'effetto Eh immaginavo Dai Perché non funziona Perché non funziona L'orologio Io Io premo eh Ma non va Non va Vabbè senti Possiamo fare anche così Ecco Eh Mi sono preso io Dai Ma scusa ma loro Perché non si fanno niente Usate Ma non si fanno niente Ah col coltello Sì però Perché forse sono Cioè demoni del fuoco Tipo Sì ma ascolta Lasciatemi in pace Dai Io me ne vado Faccio così E li saluto Ecco Oddio aspetta Aspetta Lancia la L'ha rimbalzato Un po' lontano Ok Aspetta un attimo Facciamole una Ecco questo è più vicino Si è bloccato lì Ottimo Andiamo Ok Bene C'è la modalità Demone qua Io salverei Aspetta E Non mi blocco Ok Dammi il coltello Ci vorresti morire In un colpo solo E infatti Ok Ecco Ti pareva Quando arrivano Quelli più forti Basta Sparito l'effetto Aspetta 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 No No Oh Ok Salvo Salvo Ancora tu sei rimasto Ma datti fuoco Per favore Ok Hop Hop Salve Lucertoline Aiuto Aiuto Aia Aia Vado Aspetta Posso andare avanti A fine Nella lava Possibilmente C'è pure il pesce Di fuoco C'è Aspetta Aspetta Guarda Guarda Neanche Grazie Aspetta Sto qui Aia Ah Questi non Vengono Qua Hop Ah è morto No C'è l'altro Che è E niente Mi sono suicidato Praticamente Aspetta Allora Aspetta Diciamo così Ecco Tu Datti fuoco Vabbè Ok E la vita Ce l'abbiamo Poi Oh Ma che cavolo Ma che cavolo Madonna Finiamo Sto fine Nella lava Non ho capito perché Eh Te pareva Ah no Ah no Li ha presi Ok Boh Non male Io salvo Ok E Adesso Così Caracca Attenzione Qua Guarda Guarda Porca Caracca Ma si può Messo nel punto Sbagliato Non è morto Aia Toh Devo una mano a morire Aspetta Ecco Ok Ah No 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 Per andare qui Così Eh beh Comodo Aspetta Beh Ma perché non va Madonna Allora Oh Poi ci saranno ancora i pesciolini Cos'è Cos'è Mi sono incastrato Porca vacca Aspetta Guarda Non va Non va Qua finisco nella lava Oh Aspetta Questo è morto No Ancora qui Sono finito Mamma mia Oh Adesso Là c'è qualcosa Salviamo Riusciremo ad arrivarci in Columi Una trottola Cos'è Cos'è Eh Grazie Un attimo Giusto Ecco C'è neanche il tempo Di capire Cos'ho preso Mi raccomando C'è proprio Un bel ringraziamento Io adesso Mi sposto Ecco Ecco No No Che caos Questa roba Ah Ma Aspetta Consuma Sì Consuma magia Ma non tantissimo Aspetta Così Così Ne consuma Di più Ma sono tipo Le Cos'è Le puntine È meglio Questo Che insegue Ovunque Attacco Diciamo Primario Non consuma Molto Ok Questo è morto Faccio Oh Lascio una palla Ma Basta Fermo Beh Ma Cavolo Ancora vivo Sei tu Caracco Oh Ok Grazie Ovviamente Beh Mamma mia Ah E qua Mi avevo salvato Aspetta Riprendiamo Queste puntine Qui No Sembrano Tipo È vero È strano Ah Ecco Cosa mi ha Mi ha attirato Prima Mi hanno Mi hanno attirato Nella lava Con la loro lingua C'è Ma va Si può Adesso Io mi sposto Subito Subito Ok Faccio Aspetta Così Poi da qui No Sbagliato Sbagliato E comunque Confermo Ci ha messo Veramente Di tutto In sto Gio Il mondo Lavico La foresta Combattimento Enigmi Che fantasia Non saprei dire Neanche a che genere Appartiene No Beccatevi Cioè Colpiscono In automatico Vai Vabbè Senti Aspetta Ecco Coltello Eh E niente Allora Com'è su che Cos'è Parte che Ah no Ok Ah Sul Sul 6 Ok Era l'arma Che forse Mancava A parte che Ce ne manca Una Sarà quella Per battere La regina E' morto E' meno male Allora Aspetta che Adesso Salvo Salvo Ok Ecco Colpisce Aspetta Il bersaglio Che ho Che ho Segnato Praticamente Ok Attenzione Permesso Sparite Ok Tutto così Qui Questo livello Poteva portarci In un posto Verdeggiante Pieno Di prati Per accedere Troppo No Ma Non mi vedo Niente No eh Aspetta No Eh allora Sei bastardo Cavolo Ad attirarmi Nella lava Ce la farò Ce la farò Sì Aspetta Aspetta Cos'è Ok Questi due Sono morti La cosa Mi piace Adesso Qua Salvo Ancora Sì Sì Poi Le otto Pagini Salvataggi Le cancellerò Io Ovviamente Scusa Da qui Ed io Lo tengo Fisso Eh si Colpiscono Prevalentemente Il bersaglio Che ho Diciamo Nel mirino Ok Aspetta Andiamo No è comodo Che colpiscono Dalla distanza Anche Abbastanza Elevata Se vogliamo Eh Poi qua Eh ci sono I due pesciolini Qui Malefici Ovviamente Lasciatemi stare Madonna Attenzione Eh mi sono Incastrato Nella roccia Non so come Attenzione C'è Eh mi sono Spostato Aspetta Oddio C'è ma Con tutti Quelli Che c'erano Ok Dai 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 Vita Vita Oh Bene al pelo Proprio Loro Ok Vedi No Non è male Non è malaccio Devo dire Aspetta Colpisce La raffica Da distanza Va Ancora Non consuma Molto Sto Attacco Devo Dire Ah Hm Ah Quelli Lasciamo Lì Io Salverei Ancora E Proseguirei Lasciamo Tocque crucifixionale C'è leave Consiglio Ai Aspetta Grazie a tutti.